ciao allora adesso vi faccio vedere questi allora questo l'ho preso al negozio di giocattoli italo per 16 euro costava 18 però siccome vado lì spesso mi fa ogni tanto mi fa degli sconti anzi ogni tanto sempre praticamente c'erano quattro pack della puma ho guardato su amazon e praticamente lì ho visto solo due pack aspettate che adesso controllo c'è quello con c'è quello con la maglietta rosa e i pantaloni bordeaux e altre cose e poi c'è quello che siamo riusciti dagli anni 80 fantastico con un cappellino di quelli berrettino di quelli tipo calotta con la fascia vestito puma la felpa che è nera azzurra bianca e rosa felpa che poi è tipo felpa con pantaloncini cioè tipo quelle tutte intere con i pantaloncini corti e poi altri accessori poi c'era questo pack qui lì e poi un altro un altro con e qui c'è allora ci sono le due bambole quelle vestite con i vestiti puma che costano un botto porca miseria 99 euro e 8 centesimi what vabbè un altro pack c'è maglietta nera con la logo puma gonna sembra tipo una gonna tennista o qualcosa del genere rosa con le bande bianche e altri accessori tra cui anche un marsupio non tipo questo più un po più largo di colore azzurro vabbè comunque a me tra i quattro piaceva questo qui e poi qua ci sono delle scarpe e queste le ho presi al toys non mi ricordo quanto le ho pagate scarpe da uomo cioè un pack con scarpe da uomo fantastico da ken cioè scarpe insomma ok togliamo prima questo allora qua ci sono un paio di porca miseria togliti tipo mocassini sì tipo mocassini blu carini dopo li farò indossare al ken bmr poi ci sono queste che sembrano delle scarpe della quella con l'albero quella marca con l'albero non mi ricordo ve lo scriverò qua da qualche parte forse se me lo ricordo e stivaletti praticamente sì carini non si sono sforzati più di tanto a colorare i lacci ma vabbè come sempre poi ci sono queste scarpe basse rosse che non è che mi facciano impazzirvi di tanto ecco questi già assomigliano più a dei mocassini effettivamente questi sono più no dai anche questi effettivamente vabbè comunque e poi ci sono queste scarpe tamarrissime dorate fantastico tipo scarpe da ginnastica dorate e sembrano tipo pelle di serpente o qualcosa del genere mamma mia wow ok adesso prendiamo lui e proviamogli eccolo qua il nostro modello sì dai carine non proprio diciamo nel suo stile però anche queste qua carine anche se anche queste qui non è che sia proprio nel suo stile queste sono carine queste starebbero bene con quel completo che però secondo me bisognerebbe fare una combinazione perché non è che ci siano tanti vestiti di Ken in giro c'è un completo che avevo preso che non so dov'è però nel mio casino totale in camera vabbè che praticamente aveva una maglia tipo boscaiolo di quelle a quadri beh queste queste sono carine e devo dire che eh potrei lasciarle lassù sapete perché mi piacciono quasi di più delle cioè allora queste qua hanno bmr 1951 però anche queste qua secondo me secondo me gli stanno bene sì sì le lascio ecco bene allora rimettiamolo a posto questi questi poi vabbè li metto assieme metto qui e ora questo vediamolo un po' dal di fuori prima aspettate faccio così ecco così si vede meglio perfetto allora qui c'è la scritta Barbie vabbè e poi c'è ah sì giusto qua sopra c'è la scritta Puma qua ci sono tutte le vabbè Puma marchio registrato bla 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 le solite cose Barbie Mattel eccetera eccetera e ha parecchi accessori c'ha appunto una felpa con cappuccio pantaloncini corti scarpe la ginnastica è un marsupio o tipo di quelle taschine dove mettere il cellulare penso degli occhiali che ok sono un po' giusto un attimino tamarri perché sono completamente dorati ma li vedremo meglio dopo un orologio penso sia penso vabbè è uno zainetto ok ora apriamo che qua che cacchio guardate ma intanto stoppo perché se no poi mi devo tagliare un sacco di diciamo pellicola ok allora scusate ok allora qui c'è la felpa molto carina c'è il logo della Puma qua davanti il cappuccio dietro ha un buco per i capelli che infatti è perfetto per per quella che vorrei usare per fargliela indossare si chiude dietro che secondo me non lo so secondo me avrebbero dovuto farla sul davanti ma vabbè però così non si vedeva vabbè comunque va bene poi ci sono questi pantaloncini con il logo Puma qui carini lo zainetto vabbè un po' rigido però dai carino rosso fatto così piccolino e gli occhiali vabbè qui però il logo non c'è o si no no mi sa che questi sono degli occhiali riciclati da qualche altro cosa qui c'è un orologio suppongo con il logo della Puma bellissimo il telefono che bello con ecco era era girato al contrario vabbè due vabbè ok con questa cosa per tenerlo in mano e questo non ho idea di cosa sia ah sì forse per le cuffie suppongo poi il marsupio marsupio barra portatelefono che anche sarebbe anche della dimensione giusta peccato che non si apra ma vabbè ecco e e poi le scarpe ma che carino so se c'è no è praticamente qui c'è la stessa ecco vedete questo che è praticamente uguale a questo solo che questo c'è anche la riga nera così che non so se sono state fatte apposta penso di sì perché sto modello qui non l'ho mai visto da nessuna parte ora come diciamo vittima 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 diciamo colei che proverà questi vestiti eccola l'altra barbie bmr che ho ok adesso stoppo la vesto e poi ritorno ed eccola qua allora devo dire però che con gli occhiali così sta sta abbastanza bene però no vabbè lasciamo perdere allora lo zainetto è così qui c'è il cappuccio che però ho preferito lasciarlo così perché col fatto che c'ha sta cosa non è che stia tanto bene il marsupio gliel'ho messo con il l'ultimo buco come come c'ha il suo praticamente che si può mettere tipo qua così al fianco ecco qui c'è il telefono che lei sta guardando il telefono per notizie può anche aspettate perché è un è un po' può anche parlare il telefono sento una me to move pantaloncini che sono un po' corti però va bene e poi le scarpe le scarpe sono durissime da mettere perché non hanno la spaccatura dietro ma c'hanno tutti i buchi che non so cosa servono adesso penso che li li terrò perché mi piacciono di più di queste qua mia è rosa fucsia che aveva lei però penso che le rimetterò la la sua ah sì e poi qua c'è l'orologio gli ho tolto anche gli anelli eccetera perché non mi pareva insomma una che va a fare sport non si mettono di questi anellazzi giganti eccetera e gli ho tolto gli ho tolto anche gli orecchini no devo dire che le sta bene le sta proprio bene sì ehm bene ehm ok alla prossima ciao ciao